Il FIABA DEI 2014 L'evento, promosso in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera, è stato accolto favorevolmente da parte di Compagnia Italiana di Navigazione che, sin dal suo ingresso in Tireni, ha avviato molteplici iniziative rivolte al mondo della disabilità, tariffe speciali, collaborazione con associazioni, sponsorizzazioni sportive, tante modalità attraverso cui testimoniare. La volontà di sostenere e contribuire allo sviluppo di una rinnovata cultura di uraglianza e benessere sociale. Le iniziative, rivolte ai disabili rientrano in un più ampio quadro di corporate social responsibility, che la compagnia sta portando avanti e, che riguarda diversi ambiti tra cui cultura, efficienza e risparmio energetico, ambiente, sport, formazione professionale. Tutela dell'infanzia, lotta allo spreco alimentare.